Questo istituto ha un indirizzo musicale nelle sedi di Canigati e di Castrofilippo, insomma avete partecipato a diversi concorsi e in molti di questi insomma avete vinto. Questo significa che c'è un buon metodo ma c'è anche una particolare attenzione da parte degli studenti. Sì, diciamo che è tutto un insieme, docenti, allievi, genitori, dirigenza, tutto ruota attorno a questi risultati che abbiamo ottenuto e sono davvero tanti. Perché dovunque andiamo riceviamo sempre premi, in particolare siamo stati a dei concorsi nazionali sia con orchestra che con solisti dove abbiamo ottenuto risultati davvero eccellenti. Parlo a nome di tutti i colleghi dell'indirizzo musicale che ogni giorno ci impegniamo per ottenere a parte risultati ma anche per formare questi ragazzi, questi alunni a questo percorso che darà tante soddisfazioni sicuramente. Vogliamo citare qualche concorso, probabilmente quelli più importanti? Sì, siamo stati proprio ieri a Stradifalco, un concorso molto importante a Redo Nazionale dove tutti i ragazzi sono stati premiati, non c'è stato uno che non ha ricevuto neppure un premio, né diversi strumenti, pianoforte, violino, carinetto e chitarra. Anche il plesso di Castrofilippo che fa parte di questo istituto partecipa a questo indirizzo musicale, come viene accolta un po' anche l'insegnamento di questa disciplina che sembra distante dai giovani invece non lo è, molto vicina? Sì, è molto vicina, confermo. Infatti c'è un grande interesse ma il tutto secondo me è raccordato appunto sia dall'interesse della scuola, quindi dei colleghi, sia della dirigenza ma in particolar modo genitori e alunni. In particolar modo noi a Castrofilippo siamo stati impegnati in due concorsi a Campobello di Licata e a Grigento e un'alunna in particolare ha vinto primo premio, primo premio come miglior solista, si chiama Liliana Fabella, un'alunna di terza media. Secondo me è una grande ricchezza quello dello strumento musicale perché insomma parte dal punto di vista didattico, secondo me forma, apre molto la mente dei ragazzi e diciamo li prepara oltre da un punto di vista musicale secondo me anche proprio da una maggiore apertura mentale proprio nell'affrontare la vita, come dire un'educazione all'estetica, alla bellezza.